Rendiamo grazie a ciò. Eccoci qui, eccomi qui con i grandissimi raggi fotonici. Mirko, Laura e Dario. Ecco, qualche anticipazione? L'attualità è uscito da pochi giorni, il film della Pemai al cinema in 3D e ha fortunatamente la nostra colonna sonora, mentre in televisione ci sono decine di serie che comportano la nostra firma, la nostra sigla. Stiamo lavorando invece a un anime nuovo, si chiama Battle Spirit e andrà in onda sulle reti Rai nei prossimi mesi, quindi questo è il lavoro che ci vede impegnati in studio in questi giorni. Perfetto, grandissima anticipazione. Vogliamo fare un saluto a tutti i fans del gruppo Anni 70-80 e dei migliori cartoni animati Anni 70-80 su Facebook? Assolutamente. Un saluto a voi che guardate bella roba. Ciao. Ciao a tutti, ovviamente salutiamo tutto il social network, YouTube, MySpace, Facebook, Twitter e tutti i vostri fans. Ciao da Mirko. Ciao da Laura. E ciao da Dario. Raggi fotonici. Ciao. TSA TJ, saldottore del blog. Ciao. Grazie ragazzi. Grazie, è un piacere. Ciao. Grazie.